Salve a tutti ragazzi, bentornati dal vostro 8pone, sono qua su Pokémon Unite! È un gioco che all'inizio non mi attirava tanto perché ho visto che le recensioni erano pessime, ma l'Easy Fighter, il mio carissimo collego, mi ha convinto. Per cui, eccomi qua e proviamo questo gioco e vediamo com'è. Una piccola pecca che già riscontro è che se non hai un wifi devi essere costretto a scaricarti giga e giga di dati, infatti ancora sta caricando là nell'angolo, vedete, il 26%. E vabbè, cominciamo allora. Cosa devo fare qui? Vabbè, per cominciare vi faccio dare un'occhiata al mio personaggio che è una femmina, una magia alla mia ragazza, signori. E vabbè, iniziamo subito a giocare. L'8pone. Ok ragazzi, è la mia prima partita in assoluto che faccio, levandoci il tutorial, che se volete vedere andate sul canale di Franz. E vabbè, fatta casuale. Contro CPU, lotte tra amici e inizia. Vediamo un po' dove ci porterà. Stadio di Pelago. Allora, il telefono vibra, forse devo anche andare a togliere la vibrazione quando sarà possibile, perché... Ah, io so pronto, non ho messo che so pronto, vabbè. Mettiamo che so pronto. Devo togliere la vibrazione dal telefono, perché vabbè, voi forse non la sentite, ma vabbè. Gabibbo, Magno Pagno, mi sa che questi qua sono italiani. Scelgo il Pokémon. Posso prendermi Machamp? Dammi Machamp, ti prego. Sì, posso prenderlo! Allora confermo, dai, o confermo, prendo Machamp. Dai, regà! E adesso... Ah, ci stanno anche le schiene addirittura. Vabbè, prendiamoci Machamp, che ragazzi, già che ci siamo, io vi dico anche una cosa. Io mi alleno, ragazzi, e magari per i 300 iscritti vi faccio vedere il mio bicipite, così valutate voi se è grosso o meno. Mi alleno da circa tre anni, sappiatelo, quindi Machamp è perfetto per me, dai. Ecco, adesso vi sto dando troppe informazioni su come sono fatto, devo rimanere misterioso. Beh, carichiamoci, vediamo qui, Magno Pagno, Gabibbo, Pancar, Giacomo Ita. Ma non è che magari mi connette ai server che sono italiani, perché io penso sia così. Infatti, ci stanno una cifra di italiani qua. Bene, intanto mi devo ancora caricare. Eccoci qua! Dieci minuti, ragazzi. E via. Ok, parto che sono Machamp, come sempre. Oh, iniziamo subito col melare gli iPom. Vieni qua, ti ammazzo, ti prendo appugni. Ti prendo appugni, vieni qua. Ok. La mamma era pure questo. Vieni qua, ti prendo appugni, ti prendo appugni. Vai dai, intanto guadagno un po' di energia. Vieni qua, te meno. T'affetto, ti ammazzo. Oh, è schiatta? Faccio ricaricare un pochino. Oddio, chi ha sto il mostro? Non mi ricordo come si chiamava. Bravo, distrailo, distrailo, Pancar, intanto guadagno. Vai, intanto guadagno, guadagno. Ok. Che bella ragazza che mi sono messo comunque. Oh, c'è qualcuno qui? M'ha visto? Ehi, amico. Vieni qua, usiamo la mossa. Non mi sta a bruciare questo, me ne devo andare. Oddio, ho preso fuoco. Ho preso fuoco. Aia, 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 no, pizzica, pizzica, pizzica. No, no, si è schiattato. Mannaggia. Già mi hanno accoppato. Primo gol. Che è che ha fatto gol? Ok, qua mi posso muovere rapidamente, perfetto. Gabibbo ritirata, che vuol dire? Non se ne sarà mica nato. Magnopagno, chi sei tu? Nine Tates? Intanto qua c'è una fetta. Qua che si chiamava sto Pokémon? Vabbè, ragazzi non sono un esperto dei Pokémon. perché io giocavo a Pokémon Blu quando i Pokémon si fermavano a Mewtwo. Quindi non li conosco tutti. Perdonate quindi la mia ignoranza. Dunque lui dovrebbe essere Nine Tates, se non erro. Fammi andare qua che mi ricarico un pochino. Ah, ha fatto gol. No, allora aspetta, lo faccio anch'io. No, no, mi ha bloccato, mi ha bloccato. Pezzi di fango, muffito. No, 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 no. No, no, no. No, già lo sapevo. Lo sapevo andare a finire così. Però ho ancora un bel po' di energia da mollare, quindi... Ora, di qua penso... No, ci sta quel Charmander laggiù. Ora aspetta che mi sposto, me ne vado di qua. Perché sono rallentato? Vabbè, non mi importa Andiamo, andiamo Ritirato Ma sti cosi mi danno velocità, allora andiamo Oh, questo si stava a nascondere No, pezzo di fango Via, 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 via Mi nascondo, mi nascondo, mi nascondo Ok, non mi ha visto, non mi ha visto Andiamo avanti, andiamo avanti Dai, mi serve una porta Posso entrare qui? No, non mi hai visto, non mi hai visto E vabbè, questo mi blocca Siamo gran fisico Via, via, via Sto schiattando, sto schiattando male No, mi ha preso Regà, sono una piffa Ma intanto chi è che sta vincendo in tutto questo? Chi è che sta vincendo? Sembra un... Ora è tipo League of Legends, però con i Pokémon Fino alla barra della vita è uguale a quella di League of Legends Oh, chi era quello? Non me ne frega niente Non mi avete visto? 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 Tu non mi hai visto? E io non sono qui Intanto vediamo a schiaffi sto iPom Intanto sto a schiattare di nuovo No, 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 no Non mi ha ammazzato Ora basta, mi hai rotto Volevo usare colpo Karate Ma mi stanno ad ammazzare questi Regà, in tutto questo non ho segnato manco un gol Cioè, faccio vera... Sono veramente una pippa Forse sarà anche il matchmaking Ma vabbè Io veramente sono una pippa Che è sto cosa? Non è niente Oh, intanto Guarda qui quanta energia che c'è Non approfitto La prendo tutta No, no, no Mi hanno visto Mi hanno visto un'onor Via, via Scappa, scappa Scappa, ma shop Scappa, ma shop E vabbè Ma questi mi ammazzano in tre secondi Ma che c'hanno Eh... I capi Pokémon pimpati Veramente Mi ammazzano subito Dammi Fate depositare sti cosi Per favore Non chiedo... Non chiedo tanto Questo non è niente Sto attento a quelli che si nascondono Oh, guarda qua quanta roba che c'è Li prendo tutti E voi non mi rompete Non mi rompete Perché siete... Siete simpatici, vero? Dai, dai, dai Fai gol Fai gol Fai gol Battene, battene, battene Ma veramente Ma a me fanno le chiuse, regà Io non riesco Non riesco proprio a far nulla così C'ho ancora undici punti Di energia Quindi li posso ancora dare Se lo ci fosse qualcuno ad aiutarmi Questi infami si sono messi qua a fare... Accogliamo l'energia Scappiamo Non mi avete visto No, 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 no Vattene Vattene, ti prego Vai, 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 carica, carica Aspetta, ma magari meno a questo Vabbè, questo è pimpato Vattene, vattene, machop Vattene, machop Vattene, stai a crepà Come sono morto Regà, sono veramente scarso Sono veramente una pippa Cioè, ma che succede? No, ora qua vedo che si stanno a menà Aspettate che vengo anch'io Vengo anch'io, regà Aspettate Questo che è? Mi sono evoluto Sono diventato machop Dai, allora andiamo a menà Andiamo a menà, dai Via da qua, via da qua, via da qua Ah, troppo tardi, amico Ce l'ho fatta Vieni qua, vieni qua Che mo t'ammasso Vieni qua Mamma mia, te uccido Ti ammasso, t'affetto Beh, giustamente nella sua porta Non potevo farlo fuori Facilmente Tra almeno uno lo voglio ammazzare Devo solo riuscirci Vai, machok Vai, machok Cosa posso imparare? Un crociocorpo, dai Ciao, Ninetales Allora, andiamo a menà questo Scusami, ma ti devo prendere a cazzotti Mi dispiace Eh, cosa gli ho fatto? Ah, toglie tanto sta mossa Mi sa che ho fatto bene a sceglierla Vai, andiamo Oh, non mi avete visto? Siamo in testa di parecchio Dai Sto pure a vincere, allora Dai Questo lo massacriamo Vieni qua, vieni qua Che t'ammasso T'ammasso Taffetto 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 Mi sono evoluto di nuovo Dai, io sono machamp adesso Ah, K.O., mannaggia Però io ho menato De brutto Almeno quello io ho menato Dai, dai, dai Ok Ok Una delle nostre aree goal è stata distrutta Che vuol dire? No, comunque adesso sono machamp Sono mega evoluto Ma che stai facendo? Ah, ma questo è un avversario Oh Qui mi nascondo Guarda, gli faccio un agguato Vieni qua Vieni qua Ah, che t'ammasso Vieni qua Sì L'ho steso L'ho steso, dai Stanno attaccando Zapdos E mi dispiace ragazzi Ma io Devo Devo fare punti Perché c'è un bel po' di roba qua Boom, baby Erano tutti distratti ad attaccare Zapdos Intanto a proposito Dove è apparso? Mi sa de qua C'è che sta attaccando Zapdos? Venite qua ragazzi E meno anch'io Ah Avete già fatto Scusate No bene, intanto ho fatto goal Almeno questo Mi accontento, dai Che succede? Rush finale Ah, mi sta guidando verso la porta Ok Allora andiamoci Qui non c'è nessuno Vai Oh, ole Aria di cambio marcia Che vuol dire? Non capirò mai sta roba del cambio marcia Siamo in testa di parecchio Eh, vorrei sapere quanto stiamo Perché non riesco a capirlo Vieni qua amico Fatti picchiare Fatti picchiare amico Mi dispiace Ma ti devo far fuori Scusami granchietto Oh Ok Allora andiamo a menà pure a questo Oh Mazza Ma l'ho spaccato L'ho sfonnato Vai, depositiamo ancora Olè Olè Allora andiamo ad ammazzare questo Ragazzi sto veramente andando indisturbato comunque Nessuno che mi sta scassando Vieni qua T'ammazzo T'ammazzo Oh Andiamo a depositare di nuovo Boom Ecco fatto E 5 4 3 2 1 Oh Tempo scaduto Dai vediamo che ha vinto Oh Abbiamo vinto noi Dai Bene Oh La mia prima partita L'ho già vinta Vabbè È un gioco di squadra Dettagli Vediamo Oh Oppure Sono pure il numero 1 No Vabbè Allora aspettate che questo Ho metto come copertina Ecco Bello screenshot Grazie Oh Ragazzi Eh Questo era Pokemon Unite Vediamo Analisi lotta Detagli Punteggio E vabbè Noi ci vediamo al prossimo video Dal vostro Ehi Topone Ciao ragazzi